Borgata Costiera 2.0, risata in colorata armonia, sta per iniziare accanto a me Ciccio Foggia, promotore della serata, mazzurra del Vallo, quindi entra Borgata Costiera che la rende appunto il centro della città. Sì, diciamo che non è la prima volta, questo è il quattro evento che io faccio qui in questa borgata e non solo, l'ho fatto pure nel quartiere della Via Potenza in passato. Io dico semplicemente che è giusto dare attenzionare molto il centro storico, ma è pure giusto non dimenticare le preferite della nostra città. Borgata Costiera è una zona rurale che mira tanto il rispetto, ha tanta dignità, le persone hanno un cuore, hanno un'anima e vanno rispettate tanto quanto quelle del centro storico. Quest'anno abbiamo deciso di improntare tutto sulla sicilianità, infatti oltre a esserci Iundo che sono uno dei gruppi più operativi della provincia di Trapoli per quanto riguarda le esibizioni musicali, abbiamo anche una ballerina nella scuola di danza di Mazzara del Vallo, nel caso specifico Angela Messina e Nadia Sciacchitano. Inoltre abbiamo due maestri del cabaret siciliano d'autore. Gianni Nanfa, il primo, è stato ad avere una compagnia di cabaret proprio in Sicilia nel 1970 e poi possiamo anche definirlo così un suo allievo, Alessandro Gandolfo. Quindi siamo orgogliosi di essere a Borgata Costiera ed aver dato un taglio prettamente siciliano. Alessandro Gandolfo, appena sceso dal palco, un'esibizione coinvolgente, il pubblico è stato anche molto portato da te a divertirsi, applausi, avete cantato insieme. Grazie, è troppo buono, però in effetti c'è un po' di verità perché il pubblico è stato molto caloroso, io ho cercato di fare il mio meglio, poi ne ho approfittato che c'era Riccardo Russo con la sua band, abbiamo improvvisato qualcosa dal vivo, un madele di Moranni, è andata molto bene, grazie anche al pubblico di Mazzara e Borgata Costiera. Ce l'abbiamo fatta? Una manifestazione riuscitissima, la piazza è piena. Sì, c'era tanto, tanto pubblico e soprattutto il pubblico era caloroso e questa è la cosa più importante. Io tra l'altro sono stato qui, non ricordo, due, tre anni fa, quattro anni fa, però ho sempre questo buon ricordo di questo pubblico molto caldo. Accanto a me il maestro Gianni Nanfa, appena scelso dal palco, un palco è stata la sua esibizione esilarante, ha regalato risate a crepapelle, cosa ne pensa del pubblico e di questa serata? La serata è splendida, se non fosse per il vento gelido sarebbe anche più bella, ma d'altronde è inverno, quindi ci dobbiamo rassegnare. Scherzi a parte, diciamo un pubblico calorosissimo, che tra l'altro io frequento dagli anni 70, per cui per me i mazzaresi che sono calorosi non è una novità, anche perché colgono pure le sfumature, come tutti i comuni, che poi mazzare a chiamarlo un comune o un paese è sbagliatissimo, perché è una città a tutti gli effetti. E quindi diciamo il pubblico, che io possa fare ridere per più di un'ora è normalissimo, perché se dopo 43 anni faccio il sucio, voglio un faccio il rire per un'ora di cristiano, avrei fatto meglio a fare un altro tipo di attività e non questa. Grandi protagonisti di Borgata Costiera 2.0, Iundo, accanto a me il leader del gruppo, Riccardo Russo, una serata caldissima questa sera. Sì, non solo dal punto di vista climatico, ma molto energetica dal punto di vista musicale. Il pubblico è estremamente interessato, ci ha fatto molto piacere il fatto che abbia gradito la varietà dei brani che abbiamo proposto finora, perché abbiamo spaziato dal pop al rock e soprattutto è stato molto carino vedere insomma anche gente non più giovanissima e seguire con attenzione il rock che abbiamo proposto. Tra l'altro all'interno del gruppo ci sono tantissime ragazze tutte giovanissime. Assolutamente sì, soprattutto il maestro Porcelli. Una ragazza giovanissima. Tra le ragazze del gruppo c'è Angela Messina, poliedrica. Tu non soltanto canti, ma ti abbiamo anche visto esibirti ballando con la scuola di danza in punta di piedi, le coreografie sono tue? Esattamente, sono mie, insegno già da due anni in quella scuola e spero di continuare e di avere allievi almeno. Tantissimi gli sponsor che hanno voluto aiutare appunto lo svolgimento di questa serata. Accanto a me ne abbiamo tre. Per quale motivo sponsorizzare questa serata a Borgata Costiera? Allora intanto mi presento, sono Vito Buonanno e sono il titolare della Mister Pulito Service. Ho voluto aiutare Ciccio Foggia in questa sua impresa a fare questa manifestazione a Costiera perché diciamo che è una persona molto calda, molto riesce a spingere tutti, a convolgerci e allora ho voluto dare questa mano d'aiuto per poter realizzare questa bellissima festa qui stasera a Costiera. Una manifestazione che porta Borgata Costiera al centro anche di Mazzara del Vallo? Certo, sicuramente. Io sono Emanuele Marino e rappresento il ristorante La Trinacria di Mazzara del Vallo e Mia Garibaldi. Noi abbiamo sempre sposato tutti i progetti di Francesco Foggia e ancora una volta ci riconfermiamo qua proprio per allungare e sperare che questi progetti possano avere un futuro in modo che la gente possa avere anche un modo per riunirsi e questa è la serata. Tantissimi gli ospiti questa sera, una serata che già sembra che va benissimo, no? Sì, io mi presento, sono Vito Giacalone, rappresento la Budicche del Pesce. Qua sono orgoglioso di essere qua in questa manifestazione che è stupenda. Ho sposato questo progetto con Ciccio Foggia e ci sarà la prossima volta, sono sempre a disposizione per questo evento. E' importante essere al fianco di queste manifestazioni? Sì, buonasera, intanto mi presento, sono Seragusa Francesco e sono il titolare di Lava Jet, Autolavaggio a Mazzara del Vallo. Tanto sì, per quanto riguarda queste manifestazioni, con molto piacere siamo presenti per aiutare anche in questo momento di crisi e poter un pochettino far dar piacere alla città anche e soprattutto. E anche a Ciccio Foggia che ci ha veramente coinvolto in questa serata. Cosa ne pensa di questa serata? Già si è fatta anche in anni precedenti, magari l'anno prossimo ci sarà anche lei presente. Buonasera innanzitutto, io sono Angelo Gioia, sono concessionario della Ica Food, un'azienda che distribuisce snack e chips nella provincia di Trapani. Ringrazio per l'invito e per la partecipazione che mi è stata fatta dai ragazzi, amici miei, e sono felice di aver collaborato a questa serata, in quanto la reputo una serata che non deve essere soltanto per questa sera, ma penso che sia ripetuta nelle varie prossime stagioni, perché queste iniziative le reputo iniziative importanti per la nostra città di Mazzara e Vallo e che tutti noi in qualità di imprenditori, ma di cittadini mazzaresi, dobbiamo far sì che queste cose possano anzi avere un seguito e anzi far partecipare anche chi in questa sera magari non c'è stato e nelle prossime speriamo che si aggreghino per il bene della nostra città. Grazie. Anche lei è presente come sponsor a Borgata Costiera 2.0, una manifestazione che vede anche tantissimi ospiti. Cosa ne pensa di questa serata e soprattutto la motivazione che l'ha spinta a aiutare Ciccio Foggia e questa manifestazione ad avere luogo? Salve, sono Vito Giacalone, il presidente della Cedinga, una società che gestisce delle aziende, dell'organizzazione aziendale. Sono qui per aiutare questa sera l'amico Ciccio Foggia per questa manifestazione che vedo giunisce tante persone sia di Mazzara del Vallo che della Borgata Costiera ed è una bella cosa perché vedo tanta gente allegra che insieme sta partecipando a questa serata che vuole godersi uno spettacolo popolare come se ne vedono in città da un po' di tempo e quindi una serata allegra e in compagnia e soprattutto gestita bene e ben organizzata dall'amico Francesco Foggia.